Mentre il Catania continua a lavorare in vista della ripresa del campionato che dista ancora 10 giorni, la dirigenza rossazzurra si concentra soprattutto sul calcio mercato. L'obiettivo è consegnare a Sottillo almeno un paio di innesti entro il 20 gennaio, quando i rossazzurri scenderanno in campo per affrontare il Siracusa in casa degli Eletusei e sembra che si possano chiudere alcune trattative nel giro di poche ore. Per Palum e Carriero pare ormai tutto fatto già dalla giornata di ieri perché il Catania ha raggiunto l'accordo sia con i giocatori che con le società interessate, ovvero Salernitane e Parma. Per Di Piazza invece pareva tutto fatto da giorni perché il giocatore ha raggiunto l'accordo con il Catania che invece dovrà passare necessariamente dal benestare del Cosenza, che nelle ultime ore è sembrato meno convinto di alcuni giorni fa. La società calabresa ha infatti chiesto un conguaglio economico al Catania per il quale protesta anche l'agente di Di Piazza, che spera di convincere la dirigenza del Cosenza ad abbassare le pretese e ad accettare la proposta del Catania e di liberarlo semplicemente rescindendo il contratto. Si registra inoltre una netta accelerata per Sarno che sembra più che mai vicina ai rossazzurri, che stanno discutendo con il Padova gli ultimi dettagli per permettere all'esterno di passare subito al Catania.